La differenza di genere la posso interpretare in vari modi. Se una donna vuole esprimere, forse ecco dipende dalle tematiche, se una donna vuole esprimere se stessa la propria femminilità, probabilmente questo si legge. Però quando io vedo un'opera d'artino non mi chiedo se è stata fatta da un uomo o da una donna. Magari mi interessa di più sapere la tecnica o quello che mi esprime. Sì, forse di genere può essere il fatto che magari sei un po' meno apprezzata o comunque meno valorizzata. Però io ho conosciuto artisti davvero talentuosi che non hanno niente da togliere, insomma, artisti uomini. L'unica difficoltà forse come donna hai più difficoltà per il genere di vita che fai a vivere d'arte. Ci sono sicuramente più uomini che vivono d'arte. Grazie. 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 Grazie.